Solo colui che accetta la morte può chiudere l'anello in questa terra. Solo colui che cerca l'occhio della morte potrà guardare nel nulla senza che il proprio occhio si spenga. Solo colui che porge ascolto alla morte non ha bisogno di fuggire, ma può restare perché il suo ricordo si muta nel profondo della contemporaneità e colui che si immerge nel ricordo può ascoltare il suono di quell'istante in cui l'elemento terrestre deve aprirsi all'infinito e all'ignoto, dischiuso alla rinascita e alla resurrezione di un ricordo senza fine.